Il Booker Prize quest'anno è andato a George Saunders, uno scrittore americano di eccellenza e questo segna una serie di eccezioni nella storia di questo premio importante e prestigioso che è nato nel 1969. La prima eccezione è che va a uno scrittore appunto americano, in realtà è la seconda volta, già l'anno scorso Paul Betty vinse. Ma perché si tratta di un'eccezione? Perché fino a cinque anni fa, nel 2013, il premio era assegnato esclusivamente a scrittori inglesi o del Commonwealth. Da quell'anno si è esteso a scrittori di lingua inglese e da quello stesso anno gli inglesi sono praticamente scomparsi dall'attribuzione del premio. Hanno vinto neozelandesi, giamaicani, australiani, appunto due volte di seguito degli americani. La seconda eccezione è data dal fatto che lo scrittore in questione, George Saunders, ripetiamo, di eccellenza, è uno scrittore prevalentemente di racconti. Ha solo debuttato con questo suo ultimo libro, Lincoln nel Bardo, che è appena stato pubblicato in Italia. È un libro bellissimo, ma che segna in qualche modo un'eccezione rispetto a se stesso, perché è la prima volta che si cimenta nella forma lunga, nel romanzo, con un taglio completamente diverso dai precedenti. Lui era famoso per i racconti ironici, satirici, questa volta ci consegna un racconto, anzi un romanzo, assolutamente tragico. Il Booker Prize è uno dei grandi premi internazionali, non è ancora a livello del Nobel, forse non lo sarà mai, ma è certamente a livello del Pulitzer, in qualche modo cementa, consacra la reputazione internazionale di un autore. A differenza però del Nobel, si è sempre caratterizzato per scelte più puramente letterarie, raramente si sono viste delle scelte legate alla nobiltà del messaggio, alla correttezza politica, all'importanza del momento. Ebbene, dal 1969 ad oggi, quindi parliamo di 49 anni, 48-49 anni, il premio raramente ha seguito questa logica, ma ha cercato di puntare esclusivamente sulla qualità letteraria. Quindi il fatto che uno scrittore americano da un lato e dall'altro lato legato a una tradizione satirica che viene convertita al dramma, alla tragedia, ci sembra una ventata di aria fresca. Dicevamo che si tratta di un libro tragico, perché racconta un momento privato e terribile della vita del presidente Lincoln, il momento in cui gli muore un figlio, un figlio di 10 anni. Ecco, la bellezza del libro è da un lato nella pietà nei confronti di questo uomo, e nello stesso tempo nel modo in cui mette in parallela due elementi. Da un lato la grande storia, Lincoln è uno dei protagonisti della storia dell'Ottocento, è responsabile di uno degli atti più importanti, più significativi e più moralmente alti del 1800. E parallelamente appunto c'è questo dramma privato, che lui vive con un'enorme dignità, ma con il cuore spezzato. Sonders racconta che gli è venuto in mente di raccontare questo strazio vedendo la pietà di Michelangelo in Italia. Quindi abbiamo da un lato la grandezza di questo presidente che riesce a far abolire la schiavitù, e da un altro lato il suo strazio privato. E nello stesso tempo il mondo che ignora questo dolore personale e vive soltanto le sue scelte più epiche, più importanti e più imprescindibili. Uno degli elementi più affascinanti che ha portato alla vittoria di questo premio prestigioso, ripetiamo il Booker Prize, è dato da un elemento puramente religioso, perché Sonders è un buddista e colloca il bambino nel cosiddetto limbo dei buddhisti, che si chiama appunto il bardo. Utilizziamo la terminologia cristiana perché lui stesso la utilizza, lui nasce cattolico. Ecco, lui cerca di capire che significa vivere in questa condizione, dove non si è né da una parte né da un'altra. E cerca di chiedersi come un grande personaggio che sfida il mondo, che spacca il paese per una causa giusta, cerca di confrontarsi con un dolore terribile che non lo lascerà mai fino alla fine, che sappiamo essere tragica anche per lui perché verrà assassinato. Una volta ebbe il privilegio di chiedere a Sonders in persona come mai all'improvviso passasse dalla satira, dall'ironia, dalla commedia alla tragedia, e come mai in genere i premi non danno celebrità, non riconoscano grandezza agli scrittori di commedia. Da un lato, su questa seconda domanda, disse che si tratta di miopia, pensate alla grandezza di Molière, che scriveva appunto commedie. E da un altro lato, mi disse che non c'è mai differenza tra la commedia e la tragedia, perché la vita è piena di gioia, di incanto, ma anche di dolore. Un saluto da Central Park West. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS a cura di QTSS